... Abbiamo l'onore di avere con noi Elena Gentile, una nostra artista non solo affezionata ma di grande livello che ha partecipato a questa mostra con un'opera importante. Che cosa, la sua ispirazione e la sua venuta qui a Mesagne, come ha trasformato un po' la sua ispirazione? Dopo questo periodo di Covid che ci ha resi un pochino impotenti a tutti a partecipare alle manifestazioni c'è stato questo breakout. La mia ispirazione, non mi sono fermata, sia come lavoro, che io sono infermiera professionale, quindi in ospedale ho lavorato, non posso, e come artista, non potendo uscire io mi sono dedicata alle opere classiche e non ho voluto rappresentare nulla di coronavirus perché io ritengo che le cose brutte le dobbiamo lasciare alle spalle. E quindi i fiori che ho presentato in questa mostra è stata proprio un'ultima realizzazione che ho fatto e l'ho presentata proprio per rendere qualcosa di positivo al pubblico dopo questo periodo bruttissimo. La venuta qui a Mesagne per me è stata una grande felicità perché non vedevo l'ora che veramente si sbloccasse un pochino questo brutto periodo e sono venuta proprio con tanta voglia di partecipare, ho lasciato tutto. Una sorta di rinascita. Una rinascita finalmente dopo il castello di Mesagne che è proprio il massimo. Insomma sono veramente contenta di essere qui, di rivedere tutti e soprattutto che stiamo tutti bene. Ok grazie, allora ci vediamo sul palco per approfondire. Grazie. Grazie.